La sociologia potrebbe contribuire alla lotta contro il populismo? Deve, se non fa questo non merita il nome di sociologia, se è un discorso intorno alla società non può che essere un discorso pubblico sul fatto che il dibattito mediale, non tutto ovviamente e comunque comunicativo di questi tempi è inflazionato dall'individualismo e dal populismo e se il populismo vince significa che noi non siamo stati in grado come università e anche come buona comunicazione di cambiare gli stili di ragionamento collettivo. La stessa esistenza del populismo è una provocazione per una sociologia seria.